quest'oggi è venuto da me un cliente di vecchia data per portarmi un pc che vorrebbe formattare e su cui vorrebbe reinstallare windows 11 anche mi è venuto spontaneo chiedergli come mai continui a portarmi i suoi pc per fare reinstallare il sistema operativo dal momento che ho spiegato anche su diversi video come effettuare questa operazione lui mi ha guardato con aria furbetta e mi ha detto e no perché quando li formato io i computer sono più lenti e invece quando li formatti tu sono più veloci e quindi è evidente che non ci hai detto tutto e hai tenuto per te qualche segreto ebbene non è esattamente così ma confermo di non aver spiegato tutto quanto quello che si fa dopo una formattazione del computer e soprattutto come installo effettivamente i sistemi operativi in modo da renderli più veloci però questo non è un segreto che ho tenuto per me dato che periodicamente microsoft pubblica o meglio aggiorna un documento con tutte quante le best practice per rendere più veloci i pc con windows 10 e windows 11 devo dire che non seguo esattamente le linee guida di microsoft e che ho apportato personalmente alcune modifiche ma a questo punto non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere insieme come installare windows sul tuo computer per renderlo omissile ti senti pronto iniziamo ebbene sì sono già diversi anni che microsoft pubblica e aggiorna periodicamente queste linee guida per l'ottimizzazione dei sistemi windows 10 e windows 11 che si articolano in dieci passi come puoi vedere i passi sono gli stessi sia che parliamo di windows 10 sia che parliamo di windows 11 ma io devo confessare che non le seguo pedissequamente perché ritengo che in alcuni di essi microsoft tiri un pochino l'acqua al suo mulino e così ne ho elaborato una mia versione personalizzata che è quella che voglio mostrarti proprio adesso la prima cosa che devi sapere è che contrariamente a quanto mostro solitamente nei video per tua comodità non utilizzo per uso interno di laboratorio delle iso in lingua italiana bensì prediligo l'inglese internazionale come puoi vedere e questo per una pluralità di motivi il primo è che mi capita di avere anche dei clienti stranieri e questa mi dà un ventaglio più ampio di selezione dei vari linguaggi ma anche e soprattutto per un motivo che vado subito a mostrarti nel momento infatti in cui devo installare windows anche se il cliente dovesse essere italiano scelgo sempre la lingua english world e lo faccio per un motivo molto ben preciso ovvero che nel momento in cui utilizzo questa lingua windows non installerà tutto quanto quel bloatware ovvero tutti quanti quei programmi accessori che spesso oltre ad appesantirlo sono assolutamente inutili salvo poi italianizzare come ti mostrerò a breve la lingua per renderla nuovamente italiano quindi il mio consiglio nel momento in cui devi installare windows 10 o windows 11 e lo devi fare per una macchina che deve sviluppare le massime performance è sempre quello di partire da english world ed ora proseguiamo con l'installazione ma ti ricordo che se per caso non sapessi come scaricare la iso di windows 10 oppure di windows 11 oppure che non conoscessi tutti quanti i passi da fare ti lascerò in descrizione e per tua comodità anche qui in alto un link ad un video che spiega tutto ma il mio suggerimento è di andare a vederlo successivamente al termine di questo video in modo da arrivarci già pronto per fare tutte le scelte giuste al momento giusto ed eccoci qua come puoi vedere il tuo windows è stato installato in maniera assolutamente deblottata ovvero nel menu avvio mancano tutte quelle noiosissime app che nel 90 per cento dei casi diciamolo sono inutili e che soprattutto ti fanno perdere un sacco di tempo dopo l'installazione per andare a rimuoverle sono già tutte quante rimosse e il windows è quasi pronto per essere utilizzato prima di procedere infatti con il resto della pulizia dovremo andare ad italianizzarlo per farlo clicchiamo su settings ed una volta aperto portiamoci sulla voce time and language qui sulla sinistra clicchiamo quindi sulla voce language and region scegliamo il pulsante add a language e digitiamo nella barra in alto ita per portarci sulla lingua italiana scegliamo l'italiano italia clicchiamo sul pulsante next ed attendiamo un minutino che termini l'installazione della nostra lingua e niente nemmeno il tempo di finire di mangiare le gocciole che devo andare ad aggiungere set as my windows display language e quindi cliccare sul pulsante install torno a mangiare ok abbiamo installato la lingua italiana quello che dobbiamo fare adesso è andare a specificare qui in country o region che ci troviamo in italia quindi scrolliamo verso l'alto fino alla i e scegliamo italia e come formato regionale potremo scegliere comunque l'italiano eccolo qui infine scendiamo fino al fondo della finestra scegliamo la voce administrative language settings apriamola partiamo dall'ultimo pulsante in fondo e anche qui andiamo ad indicare l'italiano come lingua clicchiamo su ok e infine sul pulsante copy settings quello più in alto andiamo a spuntare entrambe queste voci e clicchiamo infine su ok e su restart now ed ecco che il nostro computer si riavvierà e finalmente avremo installato la lingua italiana ma il nostro lavoro di ottimizzazione è ancora all'inizio infatti il prossimo passo è quello di portarci qui in basso sul menu start aprire nuovamente le impostazioni sul lato sinistro scegliere la voce windows update seguita dal pulsante verifica disponibilità aggiornamenti ed effettuare tutti quanti gli aggiornamenti necessari questo è importante farlo esattamente in questo momento onde evitare di dover fare due volte lo stesso lavoro solitamente quello che faccio mentre vengono effettuati gli aggiornamenti del sistema è andare qui in basso ad eliminare alcune cose cliccando infatti con il pulsante destro in un punto vuoto della barra delle applicazioni e scegliendo la voce impostazioni della barra delle applicazioni potremo andare a disattivare come io faccio sempre sia la visualizzazione delle attività perché non sono solito utilizzarlo sia i widget trasformando infine la casella di ricerca in icona di ricerca perché la trovo molto più snella anche da utilizzare torniamo nuovamente a controllare la situazione sulle installazioni ed attendiamone il termine e siamo arrivati al momento di effettuare l'aggiornamento dei driver per farlo ci portiamo qui in basso sulla voce esplora file la apriamo andiamo a cliccare su questa frecciolina qui scendiamo in basso fino ad individuare il pannello di controllo dove sceglieremo la visualizzazione anziché per categoria per icone grandi tra le icone troveremo quella della gestione dispositivi che andremo ad aprire qui andremo ad accertarci che tutti quanti i dispositivi abbiano installato l'ultimo driver e in caso in cui non fossero aggiornati andremo a procedere con un'installazione manuale dei driver abbiamo visto in un video precedente come effettuare manualmente l'aggiornamento dei file video che ti lascio qui in alto in descrizione e se non ti sentissi di fare questa cosa manualmente sappi che potrai utilizzare invece il programma snappy driver di cui abbiamo parlato precedentemente e che ti lascerò nella descrizione di questo video come tutti gli altri link ai video e alle risorse utili in modo che tu possa trovarle facilmente successivamente agli aggiornamenti di windows è possibile che del bloatware torni sul tuo pc a questo punto dovremo fare una piccola rifinitura che consiste nel tornare ad aprire il pannello di controllo esattamente come abbiamo visto prima e questa volta portarci sulla voce programmi scegliamo la voce disinstalla un programma e una volta aperto andremo a caccia di tutte quelle applicazioni che non vogliamo avere sul nostro pc perché non le utilizziamo la raccomandazione naturalmente è quella di usare un pochino di prudenza nel momento in cui andiamo a disinstallare un'applicazione cercando di accertarci che non sia utile questa operazione sarà particolarmente importante per i computer che avevano già windows installato e che non hanno utilizzato una versione deblottata in questo caso seleziona i programmi che vuoi rimuovere e scegli la voce disinstalla per seguire successivamente la procedura guidata che naturalmente cambia da programma a programma una volta finita la tua pulizia potrai continuare con il prossimo passo e sì perché siamo arrivati al momento delle app in background per quanto riguarda windows 10 che invece si chiamano app di avvio su windows 11 che cosa dobbiamo fare dobbiamo nuovamente portarci sul tasto start e riaprire la voce impostazioni ma questa volta in alto a sinistra nel menu di ricerca andremo a digitare appunto app di avvio nel caso di windows 11 oppure app in background nel caso di windows 10 effettuiamo la nostra ricerca e apriamo la voce relativa vedremo elencate tutte quante le app che vengono automaticamente avviate sul nostro computer andiamo a deselezionare tutto quanto quello che non ci serve avere automaticamente avviato lasciando invece le app che sono più importanti chiudiamo a questo punto la finestra e per completare il lavoro digitiamo la combinazione di tasti ctrl shift e desc portiamoci sulla voce delle app di avvio nuovamente ed accertiamoci che non siano rimaste altre app in avvio automatico che vorremmo disabilitare nel caso in cui volessimo disabilitare un'altra app da questa schermata selezioneremo la app cliccandoci su cliccheremo con il pulsante destro del mouse e sceglieremo la voce disabilita a questo punto andiamo a vedere quello che ci suggerisce microsoft al punto 6 della sua guida c'è scritto di entrare nella regolazione dell'aspetto e delle prestazioni di windows e scegliere la voce regola per ottenere prestazioni ottimali cosa sulla quale sono abbastanza d'accordo anche se andiamo a sacrificare in questo caso un pochettino di grafica di windows per fare questa operazione ci porteremo in basso su quella che ormai abbiamo trasformato nella lente di ricerca e andremo a digitare esattamente prestazioni vedremo comparire questa icona qui che si chiama modifica l'aspetto e le prestazioni di windows apriamola e nella finestra che si apre andremo a scegliere la voce regola in modo da ottenere le prestazioni migliori non si chiama prestazioni ottimali ma si chiama prestazioni migliori almeno su windows 11 tuttavia il consiglio che mi sento di darti è di scendere anche un pochino più in basso e riselezionare la voce smussa gli angoli dei caratteri dello schermo dato che a molti darebbe fastidio la visualizzazione sgranata dei caratteri di windows a questo punto clicchiamo sulla voce applica ma prima di cliccare sulla voce ok portiamoci su avanzate e andiamo a parlare un attimino di quello che è il file di paging di windows e qui mi devo impegnare moltissimo per non farti una capoccia così diciamo semplicemente che il file di paging di windows è un file di memoria virtuale che serve ad espandere alla bisogna la memoria fisica installata sul nostro computer se guardiamo quello che ci suggerisce microsoft in merito è di lasciare gestire a windows automaticamente le dimensioni del file di paging e quasi sicuramente se cliccherai sul pulsante cambia del tuo computer vedrai che sarà impostata proprio questa voce se segui assidualmente questo canale sin dall'inizio sicuramente ti ricorderai che in uno dei primi video ho parlato proprio di questo problema ma ho dato un consiglio diametralmente opposto a quello che ti darò oggi ho cambiato idea? no, non esattamente quello che è cambiato sono state le tecnologie infatti più recentemente gli hard disk SSD e in particolare gli NVMe hanno soppiantato quasi integralmente i dischi meccanici che vengono conservati solo per usi particolari essendo come ormai sappiamo bene i dischi NVMe e gli SSD in generale infinitamente più veloci rispetto agli hard disk meccanici ed essendo il file di paging un file di grosse dimensioni che viene tenuto appunto sugli hard disk è molto più veloce il suo utilizzo su macchine di ultima generazione e quindi il consiglio generale a cui mi associo è quello di lasciare la gestione automatica del file di paging a Windows stesso mentre in casi assolutamente particolari come ad esempio la presenza di una quantità enorme di RAM a fronte di un disco meccanico potrebbe essere necessario ipotizzare di non utilizzare il file di paging e demandare tutto quanto il lavoro alla RAM bene è arrivato il momento di tirare le somme e sono certo che se avrai seguito tutti quanti i suggerimenti nel corso di questo video il tuo computer nel 2024 sarà un vero e proprio missile e siamo giunti al termine anche di questo video e siccome penso ma soprattutto spero di averti detto tutto quello che c'era di importante da dire sull'argomento passerei diritto filato ai ringraziamenti del giorno e quest'oggi sono tutti per Michele Campanaro Vincenzo Spilotro e MassX65 per essersi abbonati al canale ma soprattutto un ringraziamento super specialissimo a TonySoftDev per essersi non solo abbonato ma averlo fatto in qualità di distinto gentiluomo e quindi oltre a ringraziarlo a nome mio e di tutta quanta la community mi tolgo il cappello davanti a lui ma come ben sai l'ultimo ringraziamento è sempre quello dedicato proprio a te che hai guardato pazientemente tutto questo video nonostante la capoccia finale che ti ho fatto sul file di paging mi hai fatto compagnia e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima